Francesco Vincenzi, Presidente del Consorzio di Bonifica di Burana. Presidente, che cosa è successo a Roma? A Roma sono usciti dei dati veramente interessanti, in particolare il dato che dice che il 95% delle aziende agricole sono soddisfatte, dall'indagine appunto dell'SVG, sono soddisfatte del ruolo e dell'assistenza che danno i consorzi di bonifica alle aziende agricole e il servizio naturalmente per l'irrigazione. Un altro dato molto importante che è emerso è che il 98% di questi agricoltori sono consapevoli che senza irrigazione, quindi senza acqua, non solo non c'è vita ma non c'è neanche agricoltura. Un'agricoltura che come sappiamo nel nostro paese ha la peculiarità di avere tutti i prodotti, molti prodotti che sono importanti non solo per il nostro paese ma importanti per le DOP e le IGP a livello europeo. Presidente, a chi si rivolge il vostro comprensorio, a quali province e per chi è importante l'acqua, solo per gli agricoltori? Il nostro comprensorio si riferisce a 5 province e 3 regioni e 48 comuni. L'acqua che non serve solo all'agricoltura ma serve appunto per produrre un cibo, cibo che è per tutti i cittadini di tutto il mondo. Quest'acqua inoltre serve anche per mantenere quella biodiversità e per mantenere vive quelle forme di vite che ci sono all'interno dei nostri canali.